Buonasera ad Antonio Sanson, navigatore che dal 2013 al 2016 ha fatto un viaggio in barca vela e ha fatto il giro della terra, il giro degli oceani, il giro del mare. Questa bella avventura è diventata un libro by myself, un grande libro di avventura ed è anche molto di più di un giornale di bordo, che già i giornali di bordo sono belli. È un romanzo d'avventura, è bellissimo. Allora, una prima domanda Antonio. Al posto di passare il tempo a invidiare le barche più o meno grosse degli altri, a un certo punto prendi una barca vela alla tua portata e fai il viaggio del mondo e così ti invidiano anche coloro che hanno la barca grande. Allora, com'è che è nata questa avventura? Io so che sei figlio di pescatori, quindi sei un uomo di mare per nascita, ma appunto a te la parola. Grazie. Allora, ciao Giancarlo. Come ho scritto anche nel mio libro, vedi per la seconda volta il film di Waterworld con Kevin Costner, quello del mondo sommerso. Siccome sono un passionale della vita, la prima volta quando vedi il film non mi piace. La seconda diventò amore allo stato puro e dove lavoro d'estate in campeggio c'è anche la scuola di vela. Dopo due giorni ho iniziato a fare il corso di catamarano. Terminato il corso, dopo due giorni mi sono acquistato un catamarano da spiazza usato, che lo teni per circa due stagioni e man mano, ma l'anno dopo, questo era il 2007, quindi da poco tempo che vado in barca vela e nel 2008, fine estate 2008, una tromba d'aria mi distrusse il catamarano insieme al mio anche tutti gli altri. Non sapevo se riparare il catamarano o passare sempre un'imbarcazione a vela e decisi per una barca vela. E niente, il proprietario di questa barchetta vela che acquistai nel porticciolo dove lavoro, diventò oltre il mio maestro di vela anche un mio amico. Chi va in barca vela, il giro del mondo e il sogno nel cassetto. E nel 2012 feci scuola vela oceanica insieme a Giovanni Soldini e Vittorio Malingri e faceva l'attraversata dell'oceano atlantico, partito da Givilterra, Canarie e poi voilà, fino dall'altra parte ai Caraibi a Guadalupe. E stavo talmente bene che sarei andato avanti fino alla morte. Et voilà. Questo era il 2011, pardon. E niente, stanco, stressato di questa società. Era andato, era tutto troppo, troppo lavoro, troppo tutto. Era andato fuori giri e dovevo trovare una soluzione per la mia salute. E pensavo che il giro del mondo poteva essere una buona soluzione, una buona pure. Invece è stata un'eccellente medicina. Nel 2012 mi acquistai la barca By Myself, una barchetta di soli dieci metri ma ben costruita, una barca oceanica. E nel 2013 partì per questa straordinaria avventura. Da dire una cosa molto importante, due mesi prima della partenza e due mesi dopo fu uno dei periodi più brutti della mia vita perché lasciare un lavoro da cui avevo tantissime soddisfazioni, che mi piaceva moltissimo, lasciare gli amici a terra, tutte le sicurezze per un'avventura che non sai come poteva andare, cosa poteva essere, è stato veramente molto molto difficile. Partì impreparato, però man mano che andavo avanti, poi le isole, i navigatori mi hanno fatto condurre questo giro meraviglioso. Sì, mi aveva incuriosito una questione che penso che c'è anche nel libro, però nelle nostre conversazioni ne abbiamo anche parlato. Tu ti sei accorto, diciamo dopo, che in questi tre anni di viaggio, immunità, nessun raffreddore nemmeno. Come è successo? Eh, bravo! Giancarlo, allora, sono un privilegiato, uno molto molto fortunato, ma tante cose vengono dal carattere della persona, essendo ognuno di noi in questo mondo. e avere... do una risposta un po' più completa e... come dire, sì, quello che stiamo vivendo io lo chiamo un progresso regresso, quello che ho vissuto e mi sono accorto che l'essere umano è entrato nella sua dimensione e stavo talmente bene che sì, non ho avuto mai una... mai la tose, raffreddore, febbre, mal di testa, nulla. Sono sempre stato benissimo, neanche... neanche i brufoli non mi sono venuti fuori. Allora mi sono reso conto che quella... quella vita lì era la dimensione dell'essere umano. Infatti quando sono rientrato nello stretto di Gibilterra mi sono detto, ecco ti Antonio, ritornato nella centrifuga europea. Cose che fanno parte... è molto bello, mi piace molto questa frase qui. Centrifuga europea che fa parte di tutti i paesi industrializzati come possono essere gli Stati Uniti e voilà, insomma. È stato... è stato tutto molto molto bello. Ecco, quello che stiamo vivendo e come ho detto poco fa è un progresso regresso. Nel mio punto di vista è come un altro. È un... è una deviazione della nostra intelligenza. Il mondo... il mondo va così. Ecco, poteva prendere altre situazioni, altre storie, altre strade, ma è andata così. Sta andando così. E com'è stata la ricezione del libro? Che hai avuto la chance di... 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 di fare, se non erro, una settantina e subito... eh... sei tornato di incontri, no? Incontri di battito... eh... ha destato molta curiosità questo ghiasso intorno al mondo. E mi puoi ripetere perché era saltata la linea per un po' di secondi non ti ho sentito la risposta. Ti chiedevo com'è stata la... la ricezione eh... del... del tuo ghiasso, della tua testimonianza col libro quando hai fatto poi questo tour di... di una settantina di incontri in Italia. E... è stato... sì, è stata una cosa molto molto bella e io sono portato più per dare che per ricevere, anche se ogni tanto mi piace anche ricevere e trasmettere questa bellissima avventura alla gente che la maggior... la quasi totalità pensa una cosa impossibile, invece non è così difficile. E... ho imparato una cosa, fermare. Quando tu superi le paure che stanno nella tua mente, se riesci... se ci sono un muro grande e riesci a scavarlo con... con tutte le paure che ci sono guardi di là, e c'è la vita ed è bellissima. E... non... la gente è stata molto curiosa, molto... entusiasta, mi dice sì, sei stato un privilegiato, sei stato bravo, coraggioso, questo o quell'altro, lo possono fare anche loro. Purtroppo siamo molto condizionati nella nostra mente le paure, la paura quando di partire e poi di perdere il lavoro, quando torni non sai cosa succederà se trovi lavoro. Io penso, parlando anche con tantissime persone, centinaia e centinaia di persone, ho dedotto che almeno il 95% ha la paura di rimanere senza soldi, poi magari muoiono, lasciano i soldi agli altri piuttosto di viversi la vita. Io cerco sempre di prasmettere che la vita è bellissima, che va goduta, che bisogna darsi da fare e... e voilà, insomma, raccontando tutto durante queste 70 presentazioni raccontando i miei viaggi fatti più salienti, poi la visione di un filmato di quasi un'ora vedendo tutti questi posti, la gente si rende conto che il mondo è bellissimo però sono molto molto radicati come le religioni e tanti credo della gente. Un po' come in Italia, diciamo, è cultura e tu lo sai benissimo, molto molto meglio di me è come la cultura di avere il posto fisso quando tu hai la cultura del posto fisso delle regioni, queste cose qui la mente non si attra, non si sblocca è molto interessante quello che dici sulla paura potresti dire che hai parlato moltissimo delle paure dell'inizio e delle paure che ciascuno si tiene che ognuno si tiene potresti dire quindi che viaggiando non c'è più paura? Allora no io il mio viaggio lo divido in due parti grado, Nuova Zelanda Nuova Zelanda, grado per arrivare Nuova Zelanda seguendo le stagioni buone dei venti buoni ci ho impiegato fermandomi nelle varie isole nei vari paesi ci ho impiegato un anno e mezzo giusto e la prima parte del mio viaggio ogni giorno avevo paura a volte poca, a volte tanta la paura è fondamentale quando fai questo tipo di imprese perché la paura ti tiene sveglio ti tiene attento è fondamentale mentre il ritorno poche volte ho paura perché ero molto più sicuro molto più tranquillo avevo imparato molte molte più cose no quando viaggi più che aver paura devi stare attento devi seguire le regole seguendo le regole eviti molti molti pericoli e voilà poi ci sono quelle quelle due tre cosette tipo droghe, malavita tutte queste cosette qui che vanno sempre sempre evitate e voilà e poi anche seguire il tempo il meteo tutte queste cose qui da tenere sotto osservazione ma la paura una piccola percentuale di paura è fondamentale secondo me la devi avere facendo questo viaggio e incontrando persone di ogni nazionalità di ogni nazione hai avvertito come dire più tranquillità di tutta questa di tutto questo altro oceano di ostilità che sembra che pervada il mondo cioè hai sentito molta preclusione ostracismo nel viaggio o hai trovato piuttosto un'ospitalità al di là dell'attesa magari allora premetto in Italia su tante cose siamo molto più terzi del terzo mondo in giro per il mondo ho incontrato c'è tantissima brava e buona gente mi hanno amato li ho amati ed è mi hanno aiutato ho trovato tantissima solidarietà da parte di tutti dalla gente a terra dai marinai no in giro per il mondo la mente la gente vive molto più cauta più tranquilla con tempi con ritmi molto più lenti che non sono i nostri e in giro per il mondo c'è tanta bella gente e come ho detto poco fa mi hanno amato li ho amati li ho amati e no in giro per il mondo c'è tanta bella gente la gente è buona soprattutto quando ti presenti anche bene dal mio punto di vista quindi diciamo la maggior parte non ha messo davanti subito differenze di 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 religione di 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 non è questo che si incontra si incontra no no assolutamente no no assolutamente posso dirlo gli unici inconvenienti li ho incontrati ai caraibi perché reputo che in giro per il mondo ci siano diverse categorie di popoli di persone che soffrono per dei mali che non hanno subito personalmente ma i loro avi per esempio ai caraibi la maggior parte delle persone sono caraibi sono stati portati dall'Africa quindi i caraibi non la reputano la terra loro e soffrono di questa cosa qui quando arriva il bianco sono piuttosto piuttosto ostili ecco ecco è l'unico l'unica parte del mondo che ho incontrato dove ho incontrato un po' di ostilità da parte dei locali ma il resto in genere gli altri popoli religioni tutto quanto no no assolutamente ho incontrato tantissima gentilezza cose veramente impensabili soprattutto in sud pacifico in polinesia francese tigi vanuato una delle loro fortune è che sono in pochi quando si è in pochi tutto diventa più facile e qual è il programma del futuro è chiaro che non si tratta di ripetere ciò che si è fatto però anche diciamo guadagnandoti questa esperienza no questo bellissimo viaggio che cosa che cosa programmi per il futuro beh allora innanzitutto sono molto molto contento della vita che sto svolgendo se posso avere di più dalla vita volentieri mi piacerebbe ripartire e trasferirmi in sud pacifico dove ho trovato la gente più bella più ospitale dove mi sono sentito veramente a casa e mi mancano ancora 200.000 euro per stare in giro tutta la vita tutto qui si gioca sempre ogni settimana in superenalotto ti auguro ti auguro di ripartire grazie va bene un saluto da parte di tutti gli amici di Libri TV e lasciamo viaggiare anche questa intervista ciao Antonio ciao Giancarlo grazie di tutto ciao amici ciao a casa ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti